Ciao a tutti ragazzi e bentornati, questa è la live reaction di Juventus Inter, mi raccomando prima di iniziare tanti like, non lo so ragazzi, l'importante è andare avanti con un po' di vantaggio in vista del ritorno, speriamo di non buttare nulla all'aria, speriamo di non fare cagate e speriamo insomma di andare lì a San Siro con un pelo di vantaggio in sacoccia, speriamo bene, partiti ragazzi, dai! mamma mia, mamma mia, per fortuna, Perin, mamma mia, l'aveva pure di piatto a gatti, per fortuna, non era male, Dusa, al meglio, dai, mamma mia, fine primo tempo ragazzi, per ora partita bruttina, bloccata, ma se c'è da dire qualcosa, che finora l'Inter ha avuto qualche chance in più per poter andare avanti, pericolosa, quella di Brozovic, la parata di Perin, e il colpo di testa anche di D'Ambrosio nel finale, c'è da migliorare dall'avanti ragazzi, siamo piatti, 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 come al solito. E dai, Fagioli già ha messo due palle interessanti per Vlaovic, Vlaovic, la seconda palla poteva fare meglio, ma perché non l'hai tenuta? Cazzo, madonna ragazzi, che sonno, che sonno, non ci credo, che cosa ci siamo mangiati, cosa ci siamo mangiati? Goal! Panita! Quadrado! 1-0! Dai! Eh, secondo tempo stavamo giocando meglio noi, non è che avessimo fatto non so cosa, ma cacchio! Dai! Quadrado! Dai! Mamma mia, Bremmer, cazzo! Mamma mia, Bremmer! Mamma mia, Bremmer, che cazzo fai? Quello è fallo però su costi, c'è, se vuoi andare a rivedertelo. Assegna. No! Cosa penso se andiamo di qui? No, io per la pareggiare da così, per farcela pareggiare così. No, il fallo è netto, però c'era forse prima il coso su Kustic. Eh no, è il VAR, c'è per quello. Calciato male, Terchi. Buttata al cesso. Avete presente? Buttata al cesso, ragazzi. Adesso c'è il ritorno e basta. Ce la si gioca al ritorno. male male.